Siamo con il sindaco Mirko Cina di Bivona, diventerà bellissima, oggi si riunisce regionalmente ad Agrigento. Come valuti questa iniziativa anche in vista di tante elezioni che si terranno nei nostri comuni in Sicilia? A penso sia un'iniziativa importante perché la politica deve cominciare a parlare con i territori. L'agenda ormai è disillusa e vuole fatti. Il Presidente della Regione Musumeci assieme ai parlamentari del governo e agli assessori stanno facendo un ottimo lavoro. Sui comuni stanno arrivando tantissime risorse, si stanno sbloccando finalmente le risorse per quanto riguarda la viabilità provinciale perché è stato bloccato il prevo forzoso nelle province. E questo è a tutto merito della Regione. Tanti sono gli interventi sul distesso finanziario, sulla protezione civile e sui bandi comunitari. Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, abbiamo bisogno di rilanciare questa Sicilia sia dal punto di vista del turismo sia dal punto di vista dell'agricoltura. Quindi questo momento organizzato dall'onorevole Savarino è un momento importante di confronto con gli amministratori e con gli imprenditori della provincia per fare il punto della situazione.